Os du mila ventitré continua, ci troviamo presso lo stand di Zucchetti e siamo in compagnia di Carlo Broglia. Caro Carlo è un gran piacere rivederti dopo tanto tempo qui dinanzi ai microfoni, viorecatv.it. Grazie Fabio per l'introduzione e con questa intervista noi vorremmo presentare quelle che sono le novità di Zucchetti in questa importante fiera internazionale. Zucchetti, leader oramai nel settore dell'ospitalità, delle soluzioni per la ristorazione, per l'hotellerie, oggi che cosa presenta? Presenta importante innovazione per tutto quello che è il mondo digitale. Il mondo digitale che sono le app, che sono le integrazioni con le piattaforme di delivery, le soluzioni per ordinare direttamente al tavolo quello che oggi viene denominato sempre il self-ordering. Tutto questo è evidenziato grazie a un'importante collaborazione con The Fork, The Fork la piattaforma internazionale che permette a tutti noi di andare a prenotare il tavolo direttamente dalle nostre soluzioni con l'integrazione di tutto questo. Ma Zucchetti non è solo software, Zucchetti oramai è diventato anche hardware, grazie alla recente acquisizione della società Itar Retail che ci ha permesso di andare a completare l'intera offerta software anche con l'offerta hardware, con le stampanti, con i post di cassa e soprattutto con i chioschi multimediali che ci permettono di far sì che l'esperienza nei negozi dei nostri clienti diventi sempre più semplice e vicino alla loro modalità d'uso. Oggi che cosa possiamo vedere? Possiamo vedere un'importante realizzazione che abbiamo fatto per un nostro cliente con un chiosco di Itar Retail che andiamo a esporre qui a questa firma. Ecco, allora facciamo spazio alla camera mentre io mi giro da quest'altra parte affinché tu possa mostrare di cosa si tratta. Grazie Fabio, ecco che possiamo vedere una semplicissima applicazione realizzata per un cliente dove c'è la possibilità di ordinare direttamente dal chiosco sia in modalità self-ordering sia in modalità servita direttamente sul posto. Nel caso in cui si decida di portare via mi basterà semplicemente andare a selezionare la quantità di prodotti scegliendone la quantità e poi con un semplicissimo gesto andare a pagare in modalità elettronica piuttosto che con il cassetto automatico. Sarà anche possibile andare a sfruttare quella che l'integrazione coi segna a posto per far sì che l'ordinazione venga portata direttamente al tavolo. E questo non è altro che una delle applicazioni che dicevamo che Zucchetti presenta a OST dedicata alla ristorazione. Ma Zucchetti pensa sempre anche alla piccola ristorazione e proprio per questo lascerei la parola al mio collega Carlo Cambiotti che vi potrà far vedere una bellissima applicazione che abbiamo presentato direttamente a OST 2023. Grazie, grazie. Nel frattempo allora noi ci avviamo da quest'altra parte e chiediamo a Carlo Cambiotti salvo che non sia impegnato. No, non sei impegnato fortunatamente. Carlo spiegaci allora la nuova soluzione ideata da Zucchetti per le small business. Salve, buonasera. Zucchetti da molto tempo lavora sulle soluzioni per i ristoranti. Da poco abbiamo trovato anche una soluzione per le attività commerciali più piccole. Si tratta di una soluzione che permette al ristoratore che usava il semplice registratore di cassa di entrare nel mondo dell'informatica. Parliamo di una soluzione che può lavorare su un tablet, parliamo di prodotti nostri perché parliamo di una macchina di tarretail, ma la soluzione di cui vi parlo può anche arrivare a lavorare su dispositivi commerciali che si trovano in qualunque negozio. Qui vedete l'esempio della stessa soluzione montata su un dispositivo Apple. I ragazzi giovani stanno in alcune occasioni prendendo il posto dei genitori nei locali. Con queste soluzioni sicuramente andiamo anche incontro alle loro esigenze. Non solo la cassa, diamo anche soluzioni cloud, quindi anche il piccolo gestore può arrivare tramite un telefono a vedere l'incasso, a sapere quello che sta succedendo in tempo reale all'interno del suo locale e anche ad avere collegamenti con strumenti esterni. Pensate alle prenotazioni, ai pagamenti digitali, agli scontrini elettronici. Stiamo mettendo tutto anche a disposizione dei piccoli, quindi i tarretail ci permette di fare anche questo grazie all'hardware che possiamo fornire, di conseguenza uno sguardo anche a loro. Questo è tutto, grazie da parte mia. A questo punto andiamo a fornire un indirizzo di posta elettronica dove scrivere per richiedere maggiori informazioni da parte di tutti coloro che fanno parte del settore della piccola ristorazione. Vi chiediamo di chiedere contatto attraverso il nostro sito www.zucchetti.it dove troverete tutti i giusti riferimenti. Grazie. Grazie, grazie a te. Noi continuiamo con i reportage per andare a scoprire tutto ciò che di bello stanno presentando le aziende a Ost 2023. Grazie a tutti.